Buonasera a tutti, io sono l'editore del volume che presentiamo. Raccontare Roma si può raccontare in tanti modi, si sono non tanti, neanche tantissimi, ma migliaia, centinaia di migliaia di libri sono stati scritti su Roma e anche nella nostra realtà, noi siamo una casa di più, è nata nel 1914 che ha nella divulgazione del patrimonio storico e artistico di Roma la sua prerogativa principale, malgrado questo per esempio non ci era mai capitato di raccontare Roma attraverso le statue parlanti che sono una assoluta esclusiva della nostra città. Diciamo che già ero su sicuramente il ghiaccio in maniera molto efficace e hai sottolineato il fatto che il libro è originale, ecco è un libro originale perché coniuga due cose, da un lato è un saggio e di solito i saggi possono essere per debolette un po' nervosi dall'altro lato invece è avvincente, incuriosisce ed è in certi casi addirittura divertente quindi riuscire a coniugare queste due cose è stata semplicemente una prerogativa positiva dell'articice. Ecco, che cosa ha fatto? Lei ha preso la letteratura e la scultura, le ha collegate tra loro e ha valutato come l'un e l'altra collegate tra loro possono effettivamente rappresentare la realtà di tutti i giorni, cioè la vita, diciamo, della quotidianità. E volevo dire questo, che io non ho mai affrontato questo genere letterario, è la prima volta, nel senso che il mio approccio con la scrittura è stato per lo più di tipo creativo, io ho scritto molte fiabe ispirate anche a contesti reali come per esempio l'appendino laziale abruzzese oppure ho parlato del rapporto uomo-donna e il libro immediatamente precedente a questo parlava sempre di statue, protagonista erano le statue di Roma ma non solo le statue parlanti, anche statue come il Mosè, Belli, Trilussa o la statue equestre di Marco Aurelio, però parlavo delle avventure straordinarie che avevano vissuto queste statue in una notte di luna piena a Roma, quindi le ho collocato, ho collocato le storie in un contesto più surreale rispetto chiaramente a questo. E proprio in quell'occasione, durante la stesura di questo libro, a me è venuta in mente l'idea di poter parlare proprio in maniera più rigorosa, più sistematica delle statue parlanti di Roma, quindi ho fatto ricerche presso la Fondazione Besso a Larga Giuntina, presso la Biblioteca Nazionale e quindi ecco, mi sono documentata e ho potuto realizzare questo libro, perché è un libro che è come ti dicevo per un sacco, perché oltre a questa parte... Ci sono molti riferimenti a documenti molto antichi, quindi può essere utile anche leggere oppure per apprendere notizie che magari non lo conosce. Sì, sì, sì. Allora, nel libro sono descritti in maniera molto approfondita sei statue che sono considerate, dice il testo, le portavoce dei problemi della popolazione e definite come custodi indefessi e amorevoli sull'intera città, sui desideri e sui timori di lui, dei suoi abitati. Ecco, puoi parlarci di queste state che ci quali sono e perché hanno questa caratteristica in realtà, perché ci serve? Pasquino sta in piazza Pasquino, vicino piazza Ramona, ci sono state tante tesi per poter stabilire quale fosse la sua identità, è una statua molto antica, appartiene all'età ellenistica, terzo o quarto secolo a.C., è mutila, non ha gambe, non ha braccia, insomma, poi vedremo. Poi c'è l'abbate Luigi che invece è vicino alla chiesa di Sant'Andrea della Valle, è rivestito di una toga, indossa una toga e quindi per l'atteggiamento fiero e per la toga che indossa si è pensato potesse essere un senatore, un console, un oratore, quindi un personaggio illustre dal punto di vista politico. Poi abbiamo l'unica tra queste statue ad essere una donna e madama Lucrezia, un busto alto, quasi 3,5.